Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi come vedete siamo qui e siamo su minecraft Come vedete sono su un server di questo ragazzo E diciamo andremo a trollarlo Farò finta di essere tipo un nabbo Lui mi ha detto di non uccidere il villager Ma io ne ho già ucciso un paio Aspettate, vado avanti a lui E non uccido un altro Anzi tolgo tutto qui, guardate Dai O sennò gli do dei colpetti, guardate No non ero io mavola Mavola Da vera che sta scappando Ssss gli do un altro colpetto raga Non si è girato raga E' fermo Comunque raga Guardate che avrò un posto per farla a mia casa Io distruggo Il villaggio Va bene Ssss raga lo sto trovando malissimo Vediamo la sua risposta raga Comunque anche lui penso che stia Cioè che faccia la video Però boh non ne sono sicuro Dai rispondi Pezzo di merda Non farlo potrebbe servire per il villaggio Ok dammi TNT Ssss raga lo sto trovando malissimo Dopo io lo dico normalmente che è un troll Perché l'ho conosciuto su Facebook normalmente Sì ma dammi TNT Così Lo distruggo Raga Paccato che non è stato qui Se no tipo boh lo trovavo Dici lì cosa vuoi villager Ci sto facendo il finto tonto Ok ho ucciso Un paio di villager Che poi non è vero Sono qui Se dopo si incazza raga Glielo dico Che è un video per youtube Dai Ma do Ma anche lui un po' C'ha visto che Ho ucciso solo un villager Il primo però Va bene Certo Opsne E' morto Un altro Li dico E' caduto Per Sb Sbari Non so più scudere Ora basta Ci sta incazzando Secondo me mi banna raga Mi banna Secondo me Ok Ops Un altro Ancora E' caduto Nel pozzo Nel pozzo Ci sta incazzando Guardate Quando scrive in maiuscolo Vuol dire che tipo sta urlando Non l'ho fatto A posto Tipo vabbè Faccio La faccina triste Le dico Scusami Padrone Eh buono sta Speriamo Ok Guardate ora Guardate Devo andare Perché padrone Io ho No vabbè Dai Perché mi già conosci Stavo Scherzando Che cosa Li dico raga Boh non lo so Li dico Fammi Tipi Da te Da te Perché voglio trollar Lui Non I Villager Intanto Io ne uccido Uno Questo è il suo mondo Probabilmente Per quello che lo sto Trovando Fammi Tipi Da te E lui Dov'è Da solo Mi spiace E che senso Ha Li dico Boh Vabbè Comunque Non le dico Che ho le hack Vabbè Che poi Non è vero Però Tipo Le volevo dire Che riuscivo Rintrasse A quelle hack Ma nelle regole C'è scritto C'è scritto Sai che potrebbero Entrare Grieffare Vero Eh Allora Le dico Falla Nascosta Boh Comunque Ora mi invento Qualcosa Raga E poi ci rivediamo Ok raga Boh Sinceramente Non lo sto trovando E non riesco A convincerlo Per In modo Che lui Mi tipi Da lui E ora Riscrivo Boh E Ora mi Suicido Oh si Guardate Faccio Tanto Per Tanto Pene Perché Si Riscrivo Perché Si Perché Non mi Tipi Da te Sembra Un hub Così Però Va bene E' un troll Tanto Non so Cosa sto Facendo Non è l'attesa Che lui Mi risponda Dai Dai Non è l'attesa Che lui Mi risponda Raga Yeah Voglio stare Solo E Io Mi Suicido Vediamo Cosa Risponde Ma Mentre Non lo faccio Perché Non voglio Perdere Tutta La roba Però Va bene Andiamo E Suicidoti Io Metto Le Hacke Che scrivo Vediamo cosa dice Ora Raga Dopo Normalmente Gli dico Che Non Raga Questo video Non è proprio Un vero E Proprio Non è un vero E proprio Troll Però va bene E ti Grifo Il Server Li scrivo Secondo me Mi banno Guarda raga Perché Quelli che usano Le Hug Vengono Bannati Secondo me Mi banno Se poi mi banno Normalmente Gli lo dico Su Facebook Che era Un troll Ah ecco Guardate Mi ha tipato Si è putto A convincere Che Ora non so che far Gli do tipo Dei colpi No vabbè Dai raga Non sono così Bastardo Comunque ragazzi Se questo Mini troll Diciamo Vi è piaciuto Lasciate un like E Noi ci vediamo Al prossimo video E ciao